Scattare belle fotografie piace a tutti, ma portare in giro strumentazione pesante un po' di meno. Nel corso del video di oggi condivido con voi un po' di segreti per cercare di ridurre il peso della strumentazione che dobbiamo portare in giro con noi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende, un contesto in cui è molto importante essere agili, andare sia a fare il lavoro nel migliore dei modi, ma anche farlo con il minor ingombro possibile, dovendo montare il minor numero di componenti possibile, quindi riducendo sia lo spazio che occupiamo, sia il tempo che portiamo via al nostro cliente finale, che essendo un'azienda non è lì per giocare, ma è lì per fatturare, per fare il cash. E quindi a nostra volta dobbiamo essere più veloci possibile per cercare di portare a termine il nostro incarico nel minor tempo possibile, ingombrando il meno possibile la location. Per chi fosse nuovo sul mio canale il suggerimento è quello di iscrivervi subito, così non vi perdete i prossimi contenuti. Se siete appassionati di fotografia, video e tech, questo è il posto giusto per voi. Andiamo subito a incominciare e vi faccio vedere qualcosa che ho introdotto di recente nel mio flusso di lavoro. Si tratta di uno strumento che mi è subito piaciuto perché coniuga delle capacità video, come per esempio il manipolo per andare a orientare la camera e una testa molto morbida che ci permette di fare delle belle pannate, delle belle carrellate, con uno snodo a sfera che quindi ci permette di andare a fare tutte le regolazioni, anche fotografiche del caso. Uno strumento come questo non è niente di nuovo magari, non è niente che non si sia già visto, ma la cosa sorprendente è che ha una dimensione estremamente ridotta. Praticamente qui stiamo parlando di 40 cm una volta piegato e riposto nello zaino. 40 cm per uno strumento come questo significa che veramente andiamo in giro con un ingombro minimo. Il peso è parimenti ridotto all'osso, abbiamo a che fare con una costruzione in fibra di carbonio, con il solito meccanismo delle gambe che vengono fuori semplicemente ruotando e sempre ruotando in senso opposto si vanno a fissare. Quindi è un treppiedino che io sto portando in giro per i miei lavori a un'altezza di tutto rispetto con cui posso tranquillamente fare fotografie di interni, riprese video, interviste. Oltretutto una delle gambe è smontabile e si trasforma in monopiede, quindi possiamo andare a montare la stessa testa su una singola gamba. Uno strumento secondo me è veramente completo ma incredibilmente leggero che possiamo sbattere tranquillamente in uno zaino e così evitiamo di portarci dietro dei treppiedi più robusti, più pesanti. Ovviamente questo tipo di strumentazione supporta un peso ridotto, non possiamo andare a mettere delle videocamere molto ingombranti o delle fotocamere con teleobiettivi importanti sopra un treppiede come questo. Però diciamo che ospita efficacemente la maggior parte delle mirrorless e delle reflex con degli obiettivi standard, il che è molto importante perché si chiamano standard perché sono quelli più utilizzati. Nel caso le dimensioni di questo treppiede Freewell vimpensierisse vi posso proporre qualcosa di diverso. Questo qui è un treppiede ancora più piccolo che è di Manfrotto, un'azienda a cui io sono particolarmente affezionato perché che diavolo ragazzi, siamo in Italia e questa è un'azienda made in Italy. Questo qui è un simpatico treppiedino da tavolo, come potete vedere è molto piccolo, è solo da tavolo in questo caso, quindi questo lo possiamo utilizzare messo su un muretto o messo per terra, però non è un treppiede con cui facciamo tutto. Questa è veramente una soluzione piccola, questa è grande come una bottiglietta d'acqua, ci sta quasi in un tascone dei pantaloni, quindi è veramente piccolo. Ovviamente ci fai ancora meno cose perché regge ancora meno peso e non ha una vera e propria estensione. È una soluzione magari se si è in viaggio e si vuole andare in giro con zero spreco di spazio e mettere la nostra fotocamera su un muretto per fare delle esposizioni lunghe. A me è capitato per esempio a Firenze, volevo fare un'esposizione lunga sul Ponte Vecchio mettendo la fotocamera lì così, non ce l'avevo e mi è mancato. Quindi subito dopo l'ho comprato e adesso quando faccio dei viaggetti così un po' alla buona me lo porto perché non si sa mai. A questo punto procediamo con un indovinello. Quando scegliete una mano, per tutti quelli che hanno scelto la mano sinistra avete perso, per tutti quelli che hanno scelto la mano destra qui abbiamo il prossimo accessorio. Questo qui è l'RC6 di Canon, però credo che ci siano dei corrispettivi pressoché per tutti i brand. Questo qui è il comando remoto, il comando remoto senza fili. Quindi come potete vedere è grande come due monete da due euro messe di fianco. Quindi questo qui è veramente l'accessorio più piccolo che vi faccio vedere oggi probabilmente. Ha una batteria e ha un solo pulsante con una sola funzione. Serve solo a far scattare la nostra fotocamera. Quindi serve per l'autoscatto. Io posso usarla per far partire la fotocamera davanti a me per farmi l'autoscatto, ma serve anche se io voglio scattare senza toccare la camera, quindi senza introdurre vibrazioni. Quindi vado a premere e ho il mio scatto senza toccare la fotocamera. Va detto che molte fotocamere in circolazione hanno la compatibilità con l'app, quindi noi possiamo fare la stessa cosa dall'app direttamente dal cellulare senza neanche portarci dietro questo. Personalmente preferisco averlo, sia perché non costa niente, sia perché il telefono potrei volerlo usare per altro mentre sto scattando. Potrei star facendo un'altra cosa, potrei essere al telefono mentre scatto. E quindi preferisco aver dietro un accessorio come questo. Ne ho uno in ogni borsa fotografica che utilizzo, così non rischio mai di uscire senza tanto. Costa poco, no non è vero, per la verità l'avevo perso e l'ho ricomprato e poi l'avevo di nuovo perso e quindi l'ho riricomprato, quindi ne ho tre e a questo punto ce n'è uno in ogni borsa. Però costa poco, non pesa niente, quindi francamente va anche bene così. Procediamo e vi faccio vedere un accessorio che è grande come un portafogli, come un iPhone 15 Pro Max. È tutto sommato piccolo, però poi si apre e al suo interno racchiude un grande potere. Abbiamo già parlato di questo simpatico device, questo qui è il Color Checker Passport di X-Rite. È un dispositivo che serve ad avere la massima fedeltà nei colori sia che stiamo facendo foto sia che stiamo facendo video. Infatti io posso riprendere quest'affare vicino al mio soggetto con la stessa luce che andrò a usare per il mio scatto finale e dopo in post-produzione posso creare un profilo personalizzato per avere la massima fedeltà dei colori o semplicemente girarlo e andare a fare il bilanciamento del bianco. Quindi posso andare a, sempre in post-produzione, selezionare il grigio che voglio in maniera tale da avere i miei bianchi, i miei grigi, i miei neri perfettamente bilanciati nel mio scatto. Posso anche usare il grigio per fare l'esposizione. Vedete la mia giacca per esempio? Io questa giacca la sto usando qui perché è perfetta, è fantastica. È di una tonalità di grigio che è molto vicina all'incarnato e quindi è perfetta per fare l'esposizione. La metto anche perché mi piace ovviamente, però il grigio di queste tonalità è perfetto per fare l'esposizione in macchina. Bene, qui abbiamo un cartoncino di quel grigio che ci può servire in tutte le occasioni in cui vogliamo fare un'esposizione e essere sicuri che la nostra esposizione sia giusta, magari se stiamo girando in log o in qualche altro formato o senza una lutta applicata e quindi facciamo fatica. Questo è l'ideale. Altro accessorio, sempre delle stesse dimensioni che vi faccio vedere, di questa ne avevamo già parlato. Questa qui è una lucetta, una simpatica lucetta, la Loom Cube, che mi è stata gentilmente donata per un contest a cui avevo partecipato e che mi aveva visto arrivare terzo classificato, mi pare, e questo qui era il premio. Il bello di questa lucetta è che oltre a un dimmer, quindi io posso abbassarla così la smette di flashare, ha anche una temperatura, quindi io adesso sono a 3200 Kelvin, ma vedete io posso aumentarla fino a 5700 e quindi da luce gialla diventa una luce un pochettino più fredda. Adesso la rimettiamo calda, spero che riusciate a vedere la differenza. Inoltre, questa luce può anche riprodurre i colori. Quindi vedete, non solo abbiamo la temperatura, ma possiamo anche variare il colore. Vedete, questa è una luce che è in grado, adesso io sto shiftando attraverso tutti i vari colori dello spettro RGB, è una luce che è in grado di riprodurre diversi colori e quindi possiamo personalizzarla parecchio e andare a farle fare quello che vogliamo. Altra cosa interessante è che ha due attacchi per la vite col passo standard, quindi possiamo fissare la lucetta sopra qualsiasi cosa, su un treppiede, su un cavalletto, o sopra la fotocamera o videocamera stessa e possiamo attaccare qualcos'altro di ulteriore sopra. Quindi molto versatile, anzi, faccio una precisazione, c'è una vite anche a lato, quindi possiamo anche attaccare un monitor, un cellulare di fianco, possiamo fare cento cose, possiamo attaccare tutto quello che vogliamo. La costruzione è molto robusta, la durata della batteria è sorprendente perché dura veramente tanto per quello che è l'emissione luminosa che fa e per quella che è la durata di carica, quindi secondo me è stato un ottimo non acquisto perché me l'hanno regalato. Cosa ulteriore che ho dimenticato di dire in altri video, noi possiamo rimuovere il diffusore che sta sul davanti, è un diffusore di plastica che si attacca con delle alette, e in questo modo abbiamo la luce ancora più potente perché rimuovendo il diffusore è meno diffusa, però ha un'intensità maggiore ovviamente. Io adesso la rimetto perché la uso sempre col suo diffusore. Parlando anche di video perché non voglio trascurare l'aspetto video, qualcuno di voi ogni tanto me lo chiede, un accessorio piccolissimo che possiamo portare con noi è questo delizioso microfono Lavalier che è quello di Rode, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione se vi interessano i singoli prodotti. Questo qui è un microfono che potremmo definire da smartphone perché ha l'attacco fatto apposta per smartphone e quindi serve attaccato al bavero per registrare direttamente su un telefono cellulare. Possiamo fare sia una registrazione vocale, sia registrare la nostra voce, un voice over o un vlog. Mentre stiamo vloggando possiamo tenere questo attaccato al telefono cellulare e così ci portiamo a casa l'audio pulito o comunque molto più pulito e molto più di qualità di quello che potremmo fare semplicemente con il telefono cellulare. Oggi vi faccio vedere anche questa deliziosa fotocamera che è una compatta sempre di Canon, io cerco di tenere sempre tutto compatibile, Canon ha una gamma di prodotti così ampia che non faccio nessunissima fatica. Questa qui è una fotocamera e videocamera della serie G. Io mi trovo molto bene con questa linea di prodotto perché sono delle macchine piccolissime, questa è più piccola di un iPhone, si è più spessa ma poi è più piccola, quindi ci sta in tasca uguale. E' una fotocamera e videocamera con delle prestazioni interessanti perché comunque scatta in RAW, fa delle belle foto. Questa qui in particolare è la Powershot G7X Mark II, ce ne sono tante della serie G, credo che si trovino ancora, andranno fuori produzione, però credo che si trovino ancora su Amazon o nei vari store. Una soluzione di questo tipo secondo me è l'ideale per un amatore anche evoluto che però vuole andare in giro straleggero con il minimo sbatti ma non si accontenta di fare le foto col telefono cellulare. Ora, un device come questo ha ancora senso nel 2024? Vi dirò secondo me sì e ha molto senso soprattutto se vogliamo utilizzare lo zoom perché quando noi usiamo lo zoom sui telefoni cellulari è uno zoom molte volte digitale, molte volte non performante. Abbiamo visto su iPhone 15 Pro per esempio che alcuni degli zoom sono finti, sono estrapolati, sono artefatti. Questo è uno zoom vero, nel senso che quando noi accendiamo la macchina abbiamo delle lenti vere, del vetro fisico che zooma avanti e indietro. Quindi soprattutto per le zoomate, soprattutto per le foto da lontano, abbiamo uno zoom maggiore e soprattutto di maggiore qualità con un file poi che è più lavorabile. Quindi secondo me ha assolutamente senso dotarsi di un device come questo anche nel 2024. Ovviamente tutte le cose che vi ho fatto vedere oggi non sono il top di gamma che noi possiamo avere, sono semplicemente delle soluzioni per andare in giro più leggeri. Fatemi sapere se un contenuto di questo tipo vi può interessare, se volete vedere ulteriori capitoli per capire come andare a fare di volta in volta ad alleggerire il nostro setup oppure se preferite vedere che cos'è il meglio che possiamo andare a utilizzare nei nostri shooting. E lì faremo un po' di fatica perché io non ho tutta la strumentazione che vorrei, per fortuna, se no sarei in bancarotta. Per fortuna non ho tutto quello che desidero, quindi qualcosa ogni tanto vi posso segnalare che sarebbe bello però magari non ce l'ho. Quindi posso parlarne in senso lato ma senza farvelo vedere. Fatemi sapere nei commenti quale dei tuoi tipi di contenuto preferite. Io come sempre vi ringrazio per aver passato un po' del vostro tempo con me, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi do appuntamento al prossimo video. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.